buonasera e se la speranza è una promessa e se la speranza è un'eredità questa sera vedremo che la speranza può essere una volta anzi è proprio una volta e questo lo vediamo attraverso il terzo i patriarchi giacobbe la cui storia è davvero cruciale la pistola è davvero sensazionale potremmo dire quasi per poter conoscere un rapporto speciale una dinamica speciale tra dio e gli uomini tra la promessa di dio il sogno di dio e il progetto e le pretese degli uomini e proprio in questo rapporto così tra dio e giacobbe si instaura questo terzo aspetto della speranza la speranza non è legata alle promesse la speranza non è legata alle realità la speranza a giacobbe è legata molto alla lotta a una lotta tra lui e dio stesso ora per giacobbe noi con giacobbe stiamo parlando del capo stipide delle dodici tribù quindi di tutto il popolo di israele che poi sarà il popolo dell'alleanza che appunto fa capo a giacobbe e il nostro personaggio è un personaggio un po diverso dagli altri due sia da abramo che da isacco sia quindi da suo padre isacco sia da suo nonno abramo ora mettiamo da parte un po quelle che possono essere le definizioni di di parentela perché non ci interessa in questa in questa sede però nel testo biblico ci precede appunto ci presenta appunto giacobbe che è preceduto da suo padre isacco e quindi da abramo ora noi abbiamo visto che nei confronti delle promesse abramo come possiamo dire commette i suoi errori abramo è un peccatore e non si affende solo diciamo isacco è un peccatore come tutti gli altri uomini ma giacobbe non è soltanto un peccatore giacobbe è spudorato giacobbe è sfacciato nel suo nel suo caso ha come dire una posizione nella vita nei confronti del padre nei confronti del fratello nei confronti e delle di chi sarà il suo ocio nei confronti di chiunque incontra nella vita e anche nei confronti di ome potremmo dire proprio una come possiamo dire una posizione una presa di posizione molto ma molto sfacciata allora giacobbe ha un fratello e saù sono entrambi gemelli e c'è una caratteristica loro si come dire sono in un'eterna lotta fin da quando sono bambini tanto è vero che anche nel grembo di sua madre c'è giacobbe e quando saù stava per uscire giacobbe lo teneva dal calcagno perché appunto evitasse di essere come di essere superato di essere sorpassato dal fratello e dal fratello e saù quindi c'è una lotta tra loro che si che si innesta fin dal dal grembo dal grembo materno e il rapporto con il fratello e saù è un rapporto davvero complicato isacco ha una moglie che si chiama rebecca che pare non abbia lo stesso amore per entrambi per entrambi i figli almeno per come va almeno per come va la storia comunque giacobbe è una persona che vuole costruirsi la vita giacobbe è una persona che ha il suo progetto e il suo progetto può contenere un riferimento a dio soltanto la misura in cui dio è funzionale al suo progetto di vita e per quale motivo perché ad esempio giacobbe riesce a come dire a fare scacco matto al fratello per ben due volte la prima volta quando gli capisce la prima genitura per un piatto di venticchio lo sappiamo e il secondo episodio ma ce l'abbiamo quando gli capisce la la benedizione anche aiutato da sua madre la sua madre rebecca ora è una storia abbastanza disordinata è una storia abbastanza difficile perché le pretese l'astuzia la mira e il progetto di giacobbe per giacobbe devono avere la meglio su tutto e su tutti anche senza guardare il rapporto paterno anche senza pensare al rapporto con suo fratello e con quella che appunto è la sua parentela perché il voler capire la benedizione della primogenitura sottraendola appunto con l'inganno e allo stesso tempo il voler costruire la sua vita in questo modo quindi in maniera spacciata anche prendendosi gioco del padre e del fratello però lo costringono a precipitare in una situazione di estrema precarietà per quale paradossalmente un po simile a quella di abramo per quale motivo perché deve lasciare tutto e tutti e affrontare la solitudine della notte ora giacobbe fa vivere a suo padre isacco un vero e proprio dramma in capitoli che ci interessa libro del genio di settimana capitolo 27 al capitolo 32 e giacobbe fa vivere veramente un dramma a isacco per quale motivo perché se abbiamo detto che isacco vive la sua la dimensione della speranza appunto perché vive l'eredità delle promesse e isacco che vive con questa grande venerazione nei confronti del padre ebbene ora isacco si vede preso in giro dal figlio giacobbe il testo sacro ci dice che isacco era diventato cieco ora io mi chiedo che cos'è questa cecità può essere davvero soltanto una cecità fisica potrebbe essere anche una cecità morale cioè come spesso accade isacco non vuole vedere quello che si sta consumando di fronte ai suoi occhi e per questo è cieco non vuole vedere quello che si sta consumando dentro i suoi occhi ovvero due fratelli che non si amano e due fratelli che si fanno le scarpe l'uno con l'altro e soprattutto uno che fa del male uno che fa del male all'altro che usurpa la vita la vita dell'altro e la sua e la sua benedizione isacco potrebbe essere appunto ciascuno di noi quando ecco nelle nostre famiglie magari con i figli magari con il proprio padre e così dicendo facciamo finta che non succedano certe cose non riusciamo neanche a vederle ma non perché non vogliamo vederle semplicemente perché non le riteniamo concepibili e figuratevi isacco che ha vissuto una totale obbedienza e fedeltà e venerazione al padre e che possa immaginare pensare o sognare che giacobbe possa ingannarlo perché in realtà la benedizione viene garpita a isacco da giacobbe con vero e proprio inganno molto ma molto rocambolesco aiutato dalla madre dalla madre rebecca stando però così le cose e pare che appunto isacco abbia avuto un vero e proprio shock di fronte a questo sotterfugio da parte delle da parte del figlio e tanto è vero che non riesce più neanche quasi a a parlare stando così le cose esaù che è una persona abbastanza come potremmo dire molto virulenta molto forte uno macciono da questo punto di vista decide di vendicarsi con il fratello con il fratello isacco e col fratello giacobbe e giacobbe pensa bene aiutato dalla madre becca a scappare perché altrimenti esaù lo faceva fuori e se ne scappa non povero se ne scappa lapidando anche il tesoro o familiare e portandolo con sé e andando e facendo un viaggio arrituoso andando pertanto da suo zio da suo zio labano per sfuggire appunto all'era di suo fratello di suo fratello giacobbe quindi va dall'altro lato proprio della terra e dal lato opposto della terra di cana dove abitavo insieme a isacco allora che cosa succede adesso succede che nel bel mezzo della della notte quando giacobbe è da solo e nella notte tu sei al pericolo se dormi all'esterno comunque sei in pericolo comunque se dormi fuori sei anche parella delle delle bestie selvatiche e di notte l'uomo sperimenta una grande passività perché di notte quando appunto il nostro corpo si adagia e riposa l'attività si frena e in questo momento di notte quasi in un momento in cui appunto dio è l'unico momento in cui dice vabbè ora tu stai fermo non parli non non sei fissato col tuo progetto quindi magari posso intervenire anche io posso anche io dire la mia ecco che sembrerebbe poter dire dio per certi versi che cosa accade accade che il ha un sogno ed è un sogno in cui dio gli fa una promessa e gli fa la promessa che con cui dice ebbene tu ritornerai qui su questa bene tu ritornerai qui su questa su questa terra lui si sveglia giacobbe si sveglia e dice questo qui era dio e io non lo sapevo è interessante però come parla dio a giacobbe perché non gli dice io sono il tuo dio gli dice io sono il dio di tuo nonno praticamente io sono il dio di tuo padre e si fa questa presentazione sono il dio di abramo il dio di isacco quindi quasi vuol dire c'è tu ancora con me non hai avuto molto a che fare quindi fondamentalmente tu di me dice dio a giacobbe non sai quasi un bel niente allora tu adesso però stai scappando però sappi che ritornerai qui giacobbe che riceve questo bellissimo bellissimo sogno in realtà di fronte a questo sogno lo interpreta alla luce del suo progetto e del suo progetto di uomo un progetto di uomo che comunque vuole avere successo un progetto di uomo di un uomo che vuole conquistare il mondo il mondo intero solo se solo se potesse eppure questo sogno resta sedimentato nel suo cuore e sarà il motivo della sua grande inquietudine allora giacobbe di fronte a questo sogno appena si alza e dice certo il signore è in questo luogo e io non lo sapevo allora dice quanto è terribile questo luogo questa è proprio la carta di dio questa è la porta del cielo e giacobbe cosa fa di fronte a questo dono cerca di conquistarlo e com'è che lo conquista si fa lui in un rito perché prende questa pietra la luce fa un rito abbastanza potremmo dire superstizioso e fa un voto dove dice concretamente a dio bene se dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e darò pane e mi darà pane per mangiare e vestiti per coprirmi e se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre il signore sarà il mio dio molto bello come preghiero no ok signore io crederò in te tu sarai il mio dio ben se fai questo 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 e questo un potremmo dire un contratto prematiminale molto ben definito e serrato ed è un voto fatto da uno che effettivamente ha capito poco o nulla di dio perché la logica di dio non è la logica del commercio la logica di la dinamica la logica di dio è la logica dell'amore e pertanto della gratuità e allora è come se giacobbe dicesse bene dio se tu sarai bravo e buono con me allora sai sì pur certo che io ti premierò e ti premierò in che modo ti farò entrare nella casa mia tu sarai perfettamente il mio dio ma solo se farai il bravo con me e quindi se mi darai da mangiare se mi potrò vestire e se tu mi permetterai di tornare sano e salvo a casa mia giacobbe è un uomo che non si perde e quindi come dire è un uomo che si dà molto da fare con il suo con il suo mondo ed è quell'uomo che da una morte rinasce subito tanto è vero c'è Esau lui è in pericolo di vita va bene non se ne importa niente va da Labano dal suo zio che può diventare anche il suo suocero e allora e anche con Labano vive lui un inganno ma può ingannare anche lui anche Labano per quale motivo uno perché si innamora di una sua di una sua cugina ma in realtà allora Labano gli dice vabbè vuoi vuoi mia figlia vabbè allora devi lavorare tutti gli anni per me e allora lui accetta poi lavora poi alla fine però si trova sposato di nascosto con un'altra sua cugina e non con quella di cui lui si era innamorato e allora vabbè deve lavorare ancora però alla fine arriva a ciò che lui vuole ecco questa è la cosa importante di Giacobbe Giacobbe arriva sempre al suo obiettivo ma non ci arriva sempre con mezzi ottimani tant'è vero che poi trovandosi boicottato e preso in giro da Labano poi sarà lui a prenderlo in giro perché quando infatti si tratta di far aumentare il patrimonio arriva a un accordo con un suo socio e gli dice guarda gli animali che nascono ecco in questo modo cioè con delle macchie saranno tuoi quelli invece che nascono con questo colore invece saranno le mie benissimo allora tant'è vero che Giacobbe che è un ottimo e grande allevatore farà in modo da accoppiare gli animali di modo che quelle capre del suo colore siano di più di quelle di Labano lui sa bene ecco Giacobbe è l'uomo che sa bene come vanno le cose del mondo l'intelligenza e l'astuzia potremmo dire che è il suo il suo mestiere bene Labano cioè Giacobbe si è costruito la sua vita si è costruito il suo progetto ha le sue risorse ha le sue mogli ha i suoi figli ha le sue ricchezze non gli manca nulla è rimasta per lui l'inquietudine però è rimasta però per lui l'inquietudine di quel sogno tu ritornerai qui nella tua terra e questa inquietudine è qualcosa che lo spinge allora a ritornare Giacobbe non potremmo dire che non è per niente un uomo di preghiera tant'è vero che non sembra in tutta la sua vita non ha avuto molto a che fare con il Signore almeno per come la narrazione biblica ce ne parla in questi termini e anche lui ha incostato la sua vita di conseguenza cioè come un uomo che non ha avuto molto a che fare con Dio e soprattutto come un uomo che ha ricercato l'ho detto anche poc'anzi il suo progetto cioè se tu imposti la tua vita con questi criteri tu con questi criteri poi te la ritrovi e l'uomo che quando ha potuto imbrogliare ha imbrogliato e l'uomo che ha continuato a imbrogliare se è stato imbrogliato lui ha imbrogliato il doppio un altro quindi sinceramente è un uomo Giacobbe che sa benissimo come sono andate le cose nel mondo allora lui mi dice ma è possibile che Dio debba promettere qualche cosa a un imbroglione di questo genere? il sogno che era rimasto in lui come un inquietudine era proprio questo il Signore disse a Giacobbe torna alla terra dei tuoi padri nella tua patria e io sarò con te Giacobbe si decide e decide di ritornare nella sua terra siamo già al secolo 32 si decide di ritornare nella sua terra decide di ritornare nella sua terra Esau lo viene a sapere e allora dice finalmente regolerò i conti con il fratello Esau lo viene a sapere si arma contro suo fratello Giacobbe pensa bene di mandare avanti Doni a non finire appunto per placare suo fratello ma la cosa bella che poi diventerà il punto di svolta della vita di Giacobbe è un'altra notte è la notte in cui Giacobbe adesso non più in sogno ma Giacobbe lotta e lotta con il Signore lotta con il Signore e resta ferito ferito al nervo sciatico resta ferito e in questa lotta dove appunto è abbastanza cambolesca dove non sa chi vince o chi perde però poi in fin dei conti sembra Giacobbe che in alcuni momenti sembra che Giacobbe stia vincendo in alcuni momenti invece è questa presenza miseriosa che poi è il Signore però poi alla fine questo ci interessa che Giacobbe si aggrappa a colui con cui sta lottando ecco la bellezza della lotta con Dio cioè tu stai lottando con Dio e ti aggrappi a Lui allora non potremmo prendere il brano per commentarlo con esattezza quindi è una lettura anche potremmo dire bene o male che presuppone già una lettura di questi brani quello che ci interessa però per il nostro discorso è che dopo aver lottato Giacobbe si aggrappa alla persona con cui ha lottato se io ho lottato subito mi scala dentro fuori e lontano colui con cui ho lottato non me lo tengo stretto e invece Giacobbe fa questo e in questo aggrapparsi con colui con cui ha lottato ecco che nasce la speranza l'avversario di Giacobbe dobbiamo essere onesti non è nessun altro se non il Signore e questo è il suo avversario e questo lo scopre ancora di più in quella notte in quella lotta furibonda in cui può essere che il confronto appunto lui rimarrà rimarrà zoppo e questo serrato combattimento con il Signore nella vita il Signore che ha lasciato in lui questa traccia questo sogno e poi lui che invece ha costruito tutt'altro nella sua vita con i suoi criteri ma poi arriva un momento nella vita in cui Giacobbe e dentro Giacobbe ci siamo tutti noi in cui effettivamente Giacobbe si rende che l'unico punto di riferimento al quale si può fidare è proprio la presenza di Dio allora tu scopri che lottando con Dio in realtà hai bisogno di aggrapparti a Dio in Giacobbe la speranza allora da promessa che era in Abramo da eredità che era in Esacco in Giacobbe invece la speranza è la lotta in Giacobbe la speranza assume il volto e la dimensione della lotta di questa lotta potremmo dire corpo a corpo a tutto campo o con Dio e molto spesso anche nel nostro cammino noi affrontiamo una lotta quasi potremmo dire analoga a quella di Giacobbe partiamo da un sogno nel quale sono depositate le promesse che noi abbiamo ereditato facciamo fatica a credere a questo sogno e andiamo a inseguire il nostro progetto per poi scoprire in realtà che l'unico punto dove noi ci possiamo aggrappare appunto è il Signore e allora la speranza in Giacobbe si manifesta come tensione la speranza in Giacobbe si manifesta come come un'esperienza che ci rimanda anche al di là della nostra miseria dei nostri tentennamenti della nostra della nostra povertà e questa forse è la cosa che più ci colpisce cioè la speranza si innesta nella convinzione che noi possiamo fidarci solo di colui che noi abbiamo tradito Dio noi possiamo fidarci solo di colui che noi abbiamo rinnegato Dio noi possiamo fidarci solo di colui che abbiamo messo da parte Dio noi possiamo fidarci solo di colui di cui criteri abbiamo preferito non tenerli presenti nella nostra vita Dio ma quando arriviamo a questa consapevolezza ecco che nasce la speranza allora abbiamo visto in Abramo la speranza che è radicata nelle promesse in Isacco la speranza è un'eredità ora in Giacobbe la speranza assume la dimensione della lotta e il cammino allora di tutta la nostra vita in Dio la nostra vita cristiana la nostra vita in Dio la fiducia dell'amore di Dio che va al di là di ogni di ogni smarrimento al di là di ogni al di là di ogni dimenticanza al di là anche di ogni ribellione una speranza che supera tutte le contraddizioni tutte le insufficienze tutte le cadute una speranza che è radicata nell'amore e per questo è salvezza ma è un amore che noi spesso vogliamo tenere lontano la nostra vita perché dobbiamo rincorrere i nostri progetti un amore che alcune volte abbiamo tradito eppure un amore che continua ad aprire per noi e per tutta la nostra storia e la storia di ogni uomo la strada della vita nella storia di Giacobbe che cosa ci colpisce che in maniera rocambolesca Dio entra nella storia umana e l'alternativa che è la storia della salvezza che è l'alternativa alla storia umana non è un'alternativa che è staccata alla storia umana no ma è un'alternativa e questo lo vediamo soprattutto in Giacobbe che si innesta che entra che feconda la storia la storia umana e tutto questo accade proprio in un modo lottando dove non si sa chi stia vincendo certo la bellezza e la notizia grande e la salvezza è proprio questa che aggrappandomi a colui con cui sto lottando ecco che nasce in me la fiducia ecco che nasce in me la speranza allora forse Giacobbe ci può essere d'aiuto specialmente in questo tempo in questo tempo in cui la nostra speranza è messa alla prova in questo tempo in cui la nostra speranza quasi è una lotta è una lotta perché la realtà ci dice tutt'altro ma proprio mentre stiamo lottando e anche proprio mentre stiamo lottando anche contro Dio in realtà noi ci possiamo aggrappare a Lui perché solo quando scopriremo di poterci aggrappare a Lui mentre stiamo combattendo con Lui nasce in noi la speranza allora l'augurio di vivere questi giorni tenendo presente nel cuore le promesse come Abramo e quando tu tieni nel cuore la promessa il cuore si dilata diventa magnanimo capace di dare spazio a tutto il destino dell'umanità una promessa che diventa una promessa che diventa eredità sì perché noi questa speranza non l'abbiamo ricevuta come la chimera del futuro che non verrà mai noi questa speranza l'abbiamo ricevuta come un'eredità come qualcosa che qualcuno ha preparato per noi prima di noi e questo non lo dicevamo appunto nel battesimo ma questa speranza diventa viva diventa carne in che modo? nella lotta che tu tutti i giorni porti avanti nella lotta che persino noi portiamo avanti con Dio perché nella lotta come Giacobbe impariamo una cosa fondamentale che nella lotta dobbiamo aggrapparci a Dio grazie a Dio